Ciao a tutti, sono qui con il primo mini album di Kim Jong-un, Another, e questa è la versione classi, lui è un ex membro dei 101, nonché mio bias, uno dei miei bias nei 101. Pronte, retro, cd, aspettate che tolgo le photocard, ok, quando non ce ne siamo più, e il photobook. Spettate che... Amo queste foto. Ok. 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 Scusate le moto in sottofondo ma sono i ragazzi. Alla prossima. Alla prossima. Ringraziamenti, credits. Ok. Adesso c'è questo. E poi abbiamo uno postcard, credo che sia. Che carino. E poi segnalibro. Mamma mia, bellissimo. E le photocard. Ce ne sono tre. Cosa diversa. No, bellissima. Poi. Questa. Oddio. Ecco, io per queste foto cari impazzesco. Con i fiori all'esterno. Sono le photocard che preferisco. E l'ultima. Oh mio dio. Bene. Per questo unboxing è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. 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 Ciao a tutti.